E' passato un po'. A quest'ora il treno sarà fuori città. Come la tua nuova fiamma? No, lei non è il tipo. È assolutamente unica. Ok, occhi aperti adesso, Casanova. Siamo arrivati alla centrale. Lo dici? A me sembra più un cimitero. Brett, fermo! T. Passiamo, no. Non anche tu. Scusami. Scusami. Merda! È chiusa! Tu pensa alla porta! Io ho questo stronzo! Fatti sotto! È uno Stars. Potrebbe tornarmi utile. L'ho aperta! Dov'è quello spirro? Non mi interessa. Abbiamo del lavoro da fare. Se le informazioni sono corrette, Bard è nell'ufficio degli Stars. Troviamolo e prendiamolo in custodia. Custodia? Non dovevamo salvarlo. Carlos, dà un'occhiata qui. Ho localizzato l'ufficio degli Stars. Ricorda, Bard conosce molti dei segreti dell'Umbrella. Sa che non lo lasceremo andare facilmente. Quindi ricerche e soccorso, è diventato snidare e catturare. Bene. Buono a sapersi. Apro la serranda per farti passare. Resta qui e controlla che succede alla centrale. Ti contatto se scopro qualcosa. Ehi! Fa' attenzione. Certo. Anche tu. Acce. It's a portare. A portare. La serranda per attenzione. Ah! Sai! Chezza! Chezza! Voi! 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 Che cazzo era quella roba? Non sembrava uno zombie. Se l'è squagliata. Ok, diamoci dentro. Ti, mi ricevi? Si aggira una strana presenza qui. Non so cosa sia. Strana presenza. Ok. Controllo con le telecamere. Sta attento. Etc. Sì. 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 Merda. È chiusa. Oddio sparare ai poliziotti. Sì. Sì. Carlos, l'ufficio si trova poco più avanti. Ricevuto. Sì. Oh, porca puntana. Perché è bloccato? Sì. Ecco ti, strozzo. Sì. 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 Ok. Vorrà dire che faremo un bel botto. No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Avanti, facciamola finita. La taccuno! Carlos, ci sei ancora? Andiamo, mi abbandoni proprio adesso. Merda! No! 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 Cosa succede? Jill è infetta. Ora... ora la porto all'ospedale. Forse il dottor Bard può curarla. Ricevuto, ci vediamo lì. Tieni duro, Superstar. Ce la farai. Cosa succede? Resisti, Jill. Troverò quel vaccino. Andrà tutto bene. Promesso.